Si fa presto a dire potatura. Chi è del mestiere lo sa, non si tratta soltanto di tagliare qualche ramo. Esistono tecniche ben precise, approcci scientifici rigorosi e tecnologie sempre più all'avanguardia. E a partire da questa consapevolezza che questa mattina si è tenuto un incontro nelle campagne di Cartoceto tra gli studenti dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro e i docenti e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche. Il tutto nell'ambito del progetto Olive Jet, che vede il consorzio Cartoceto DOP come ente capofila e che vanta la collaborazione tra i comuni di Cartoceto e Vallefoglia, la consulenza scientifica del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università Politecnica delle Marche e la partnership di svariate aziende agricole. Un appuntamento formativo in piena regola a quello di oggi, durante il quale sono state illustrata ai ragazzi le diverse tecniche di potatura dell'olivo. Tre tipi di potatura, potatura minima, potatura intensa e potatura a corona, che è tipica della zona di Cartoceto. Nello stesso tempo andiamo a far vedere ai ragazzi dell'Istituto Cecchi, quindi direttamente quelli che saranno i futuri agricoltori del territorio, quelle che sono le tecniche di potatura e le tecniche di potatura avanzate anche con la monitoraggio con i droni e con il laser, che va a fare una struttura di quello che è l'olivo. L'intento è anche quello di coniugare le tecniche più tradizionali con soluzioni tecnologiche che guardano già al futuro. Una innovazione che ci permette prima di tutto di monitorare le crescite in modo automatico da parte di strumentazione che può utilizzare sensori remoti. Quindi possiamo prima di tutto avere una visione da satellite, poi una visione da drone e poi infine possiamo avere una visione da terra utilizzando anche degli scanner laser. Quindi la prova ci permette di vedere diverse tipologie di potatura, da quella tradizionale fatta in zona a quelle innovative che permettono di avere una maggiore conicità delle branche e quindi un maggiore equilibrio che permette di avere sulla parte più bassa le ramificazioni utili e una cima che guida e controlla la pianta. Tutto questo può essere verificato e quantificato anche attraverso l'indagine laser di di queste crescite in modo da poter avere la pianta che adesso abbiamo in campo, averla anche in tridimensione dentro al nostro computer e quindi la possiamo analizzare e poi possiamo effettuare tutti i consigli per la sua modifica e per gli interventi da fare durante la stagione. Avere oggi la partecipazione di tutti questi ragazzi è per noi un orgoglio perché ci permette di avere anche la possibilità di formare persone che avranno una visione dell'olivicoltura più moderna. Da questo punto di vista abbiamo avuto anche quest'anno il primo laureato che ha fatto la tesi di laurea proprio su questi alberi. Sì è stata una grande opportunità e sto continuando adesso anche con la tesi magistrale e quindi dai sono abbastanza fiduziosi. Tante dunque le novità in essere al punto da determinare un vero e proprio cambio di paradigma. Cambiamenti che finiranno per modificare anche il paesaggio. L'aspetto di cui mi occupo è proprio quello dell'intensificazione culturale nell'olivo quindi il passaggio da modelli a bassa densità di impianto in cui abbiamo le piante singole a modelli a parete in cui si perde la singolarità della pianta e abbiamo una parete continua che può essere poi meccanizzata e gestita in modo più intensivo. Sebbene questo progetto sia principalmente orientato all'applicazione di nuove tecnologie e di innovazione, anche uno sguardo al passato su come è evoluto il paesaggio olivicolo di quest'area che ha una tradizione centenaria se non millenaria è un aspetto molto importante. perché? Perché si affianca la valorizzazione della qualità e della quantità delle produzioni per sviluppo di quello che è il turismo rurale che è un aspetto estremamente importante di sviluppo per lo sviluppo locale.